Io intanto vi ringrazio e porto i saluti dell'amministrazione comunale, del sindaco che si scusa ma non può esserci anche perché sono giornate abbastanza complicate come sapete. Per noi è molto importante ospitare in sala borsa questa mostra, una mostra che io ho avuto già modo di vedere in altre occasioni perché da tempo che gira, anche ospitata dal quartiere Savena dove io ho avuto modo di fare il consigliere del quartiere, anche il sindaco di essere presidente, quindi rapporti con l'associazione che da tempo ci sono, non soltanto di natura istituzionale ma anche di amicizia e solidarietà e anche convinto sostegno politico rispetto alla battaglia culturale e politica che l'associazione dei licenziati per appresaglia porta avanti. È molto importante ovviamente avere qui una mostra di questo tipo per le migliaia di persone che passano tutti i giorni, soprattutto giovani, studenti e i bambini e i ragazzi che vengono a frequentare la sala borsa. Questo ovviamente ha un significato per la sala borsa in sé che vuole essere sempre di più un luogo di incontro, di divulgazione e di formazione ma ha anche un significato molto importante per il tema del lavoro. Io da poco ho assunto questa delega del lavoro, con il sindaco abbiamo fatto alcuni primi incontri e credo che sarà molto importante proseguire anche su questo campo. Credo che ovviamente il tema del lavoro dal punto di vista storico rispetto alle lotte che loro hanno fatto ha un significato importante per la nostra città ma per il nostro paese ed è assolutamente un tema di grande attualità rispetto alla democrazia nei luoghi del lavoro e la democrazia nel nostro paese che come sappiamo rispetto alla nostra Costituzione vede il lavoro come un elemento fondante all'articolo 1. Credo che sia molto importante che insieme istituzioni, mondo economico, mondo delle imprese e sindacati oggi possano confrontarsi insieme su come rafforzare il senso della democrazia nei luoghi di lavoro e nelle comunità come la nostra. Per cui da questo punto di vista la massima disponibilità nostra e dell'amministrazione per costruire insieme questo nuovo patto e questo nuovo dialogo. Ringrazio ancora chi ha organizzato con grande passione e dedizione da anni questo tour di questa mostra perché anche raccogliere la documentazione e anche spesso essere inascoltati non è facile e capisco che è una fatica che spero con questa mostra e con questo luogo siamo riusciti in parte a ripagare. Quindi grazie ancora.